il conte Ippolito era rientrato in patria dai suoi lunghi viaggi in lontane regioni per entrare in possesso della ricca eredità di suo padre morto da non molto tempo il castello ereditario era situato nella più ridente e bella contrada che si possa immaginare e le rendite dei beni terrieri fornivano al conte il modo di procedere alle più varie e lussuose operazioni di abbellimento tutto quello che in questo genere di cose era parso al conte durante i numerosi viaggi e specialmente nel corso dei suoi soggiorni in Inghilterra attraente, pieno di buon gusto, lussuoso e come tale gli era piaciuto doveva ora ricomparire ancora una volta davanti ai suoi occhi operai e artisti così come il genere dei lavori lo richiedeva giunsero alla sua chiamata al castello il restauro del quale ebbe subito inizio cominciando dai luoghi che lo circondavano e ciò con la sistemazione di un amplissimo parco nello stile più splendido che comprendeva perfino la chiesa, il camposanto e la casa parrocchiale cosicché il tutto sembrava parte dell'artistico bosco tutti i lavori erano diretti personalmente dai conte che possedeva le doti e le conoscenze necessarie per farlo e che si dedicò tutto, anima e corpo, a queste occupazioni tanto che un anno era già passato e a lui non era ancora venuto in mente seguendo il consiglio di un suo vecchio zio di far brillare il suo astro alla residenza davanti agli occhi delle fanciulle della buona società per scegliervi la più bella, la più buona, la più nobile e farla sua moglie egli sedeva appunto la mattina al suo tavolo da disegno per tracciare il progetto di un nuovo edificio quando gli si fece annunciare una vecchia baronessa lontana parente di suo padre Ippolito, nel sentire il nome della baronessa si ricordò immediatamente che suo padre aveva sempre parlato di Costei con la più profonda indignazione anzi addirittura con un senso di ribrezzo e aveva a più riprese messo in guardia persone che avevano espresso l'intenzione di avvicinarla perché se ne tenessero lontane senza tuttavia dare mai una motivazione che spiegasse il pericolo che se qualcuno interrogava il conte con insistenza maggiore egli era solito rispondere che esistono certe cose delle quali è meglio tacere che parlare in ogni modo era ben certo che alla residenza erano corse orribili voci circa un certo processo criminale del tutto strano e inaudito nel quale la baronessa sarebbe stata coinvolta per cui, separata da suo marito cacciata dalla sua lontana città essa doveva soltanto alla clemenza sovrana che tale processo fosse stato messo a tacere sgradevolmente impressionato dalla vicinanza di una persona che suo padre aveva abborrito per quanto a lui rimanessero tuttora ignote le cause di questo ribrezzo Ippolito fu tuttavia costretto ad accogliere la noiosa visita poiché il dovere dell'ospitalità che in quella regione ha valore grandissimo glielo imponeva mai persona al mondo senza essere almeno orribile d'aspetto avrebbe fatto al conte un'impressione di estrema ripulsa come per l'appunto la baronessa al suo entrare essa trapassò il conte con uno sguardo acceso e vivo sul quale fece poi ricadere le palpebre chiedendo scusa della sua visita in termini quasi umili lamentò che il padre del conte schiavo di stranissime idee preconcette che gente a lei nemica aveva saputo malignamente insinuargli l'aveva odiata fino alla morte e non le aveva mai concesso il benché minimo aiuto per quanto essa si trovasse ridotta nella più amara miseria tanto da doversi vergognare del suo proprio stato venuta finalmente in possesso in modo del tutto inaspettato di una piccola somma di denaro le era stato possibile abbandonare la residenza e fuggire a cercare asilo in una lontana cittadina di provincia durante il viaggio a quella volta dai non aveva saputo opporre resistenza all'impulso di vedere il figlio di un uomo che nonostante l'odio ingiustificato che egli le aveva sempre votato irriconciliabilmente lei aveva sempre avuto nella più alta stima la baronessa parlava con il tono commovente della verità e il conte si sentì tanto più scosso quanto più distogliendo lo sguardo dal ripugnante viso della vecchia egli si immergeva nella contemplazione della deliziosa stupenda creatura che era entrata insieme alla baronessa costai tacque il conte sembrò non accorgersene rimase muto allora la baronessa lo pregò di scusare la sua condotta impacciata in quel luogo che non le aveva fatto ricordare di presentare al conte al suo ingresso la figlia Aurelia allora soltanto il conte ritrovò l'uso della parola e scongerò la baronessa rosso in volto fino alle orecchie in uno stato di smarrimento a quale avrebbe potuto convenire a un giovinetto innamorato di concedergli la riparazione di quello che si poteva attribuire al suo padre come colpa derivata però soltanto da equivoco accettando per il momento il suo invito di trattenersi al castello per mostrare tutta la sua buona volontà egli afferrò la mano della baronessa ma la parola gli morì il respiro gli si mozzò in gola un brivido gelido lo fece sussultare internamente egli sentì la sua mano attanagliata da quella irrigidita nello spasimo della morte della baronessa e il volto grande ossuto e squallido di lei che lo guardava fisso dagli occhi senza vista gli sembra quello di un cadavere rivestito di abiti odiosamente fastosi oh mio dio che contattempo proprio in questo momento esclamò Aurelia e si lamentò poi con voce suave e commovente che la sua povera mamma era presa a tratti da improvvise crisi di tetano che tuttavia questo suo stato era solito passarlo in breve tempo senza ricorso a qualsiasi intervento medico a fatica il conte riuscì a liberarsi dalla stretta della baronessa e tutta la calda vita di una dolce volutà amorosa gli ritornò quando afferrando la mano di Aurelia la portò con impeto alle labbra giunto ormai alle soglie dell'età matura il conte sentiva ora per la prima volta tutta la violenza della passione tanto più difficile era quindi per lui nascondere i propri sentimenti tanto più che il modo in cui Aurelia li accoglieva la sua elevata e insieme a infantile amabilità accendeva in lui le più rose e speranze erano passati pochi istanti quando la baronessa si riebbe dal suo attacco e senza avere coscienza dello stato che aveva attraversato assicurò il conte che accettava di buon grado la proposta di soggiornare per qualche tempo al castello dimenticando una volta per sempre l'ingiustizia con cui suo padre aveva agito verso di lei il tenore di vita del conte si trovò ad essere quindi improvvisamente cambiato ed egli dovette credere che il favore particolarissimo del destino gli avesse portato l'unica donna al mondo che è divenuta la compagna ardentemente amata della sua vita e avrebbe potuto accordare tutta la più alta felicità concessa all'uomo nella sua esistenza terrena il comportamento della vecchia baronessa rimase invariato era tranquilla seria e sarebbe detto chiusa in se stessa ma quando se ne dava l'occasione mostrava un indole dolce e un cuore aperto ad ogni piacere innocente il conte si era intanto andato abituando al viso cadaverico che incuteva in realtà un singolare terrore e alla figura spettrale della vecchia attribuendo tutto questo al suo stato di malattia così come alla tendenza un tenebroso fantasticare il fatto riferitogli dai servitori che la baronessa faceva di frequente passeggiate notturne attraverso il parco spingendosi fino al cimitero egli si vergognava che i pregiudizi di suo padre lo avessero così a lungo influenzato e legato e le più insistenti ansose raccomandazioni del suo vecchio zio perché vincesse il suo sentimento e rinunciasse a una relazione che tra breve o alla lunga lo avrebbe irrimediabilmente trascinato alla rovina persero tutta la loro efficacia al suo animo convinto fermamente del profondo amore di Aurelia egli chiese la sua mano ed è facile per chiunque immaginare con quale gioia la baronessa che si vedeva così strappata al bisogno nuovamente collocata in seno al benessere concedesse il suo consenso il pallore e tutti quei caratteristici tratti che sono un segno di sofferenza profonda intima invincibile erano scomparsi dal viso di Aurelia mentre la beatitudine dell'amore brillava nei suoi occhi e sulle sue guance rosee il mattino del giorno fissato per le nozze un caso impressionante giunse a rendere vani i desideri del conte avevano trovato la baronessa senza vita a giacere bocconi in terra nel parco a poca distanza del cimitero e la stavano trasportando al castello proprio nello stesso istante in cui il conte si era alzato e nell'estasi della felicità raggiunta lasciava errare i suoi sguardi nel parco egli pensò che la baronessa fosse stata colta da uno dei suoi soliti attacchi di tetano ma tutti i tentativi per farla ritornare in vita riuscirono vani era morta aurelia si abbandonò alle esplosioni di un dolore violento chiusa in un assoluto mutismo essa sembrava straziata tanto nell'intimo dal colpo che le aveva raggiunta da non avere neppure lacrime per piangere il conte ebbe paura per la sua amata e con grande delicatezza e riguardo osò richiamare la povera bambina rimasta completamente sola al mondo ai loro reciproci rapporti visti in questo nuovo aspetto che richiedevano che si passasse sopra alle convenienze per fare qualcosa di ben più conveniente cioè appunto nonostante la morte della madre procedere alle nozze il più presto possibile allora aurelia si gettò nelle braccia del conte e gridò sì sì per amore di tutti i santi per la salvezza dell'anima mia sì il conte attribuì questa esplosione di un animo intimamente eccitato e commosso all'amaro pensiero che la convenienza le interdicesse il soggiorno al castello proprio quando abbandonata sola al mondo e senza patria non avrebbe saputo dove rifugiarsi curò che aurelia avesse una degna signora di età avanzata come dama di compagnia fino a tanto che passate alcune settimane fosse giunto di nuovo il tempo delle nozze che nessun avvenimento imprevviso e spaventoso venne più a turbare coronando al contrario la felicità di Ippolito e di aurelia durante questo periodo aurelia si era trovata in uno stato di ansia e di agitazione non il dolore per la perdita della propria madre no ma un'intima indicibile mortale ansia sembrava inseguirla senza riposo nel mezzo dei più dolci colloqui d'amore essa saltava in piedi improvvisamente e palli dall'improvviso come un cadavere quasi afferrata da un repentino spavento stringeva il conte tra le sue brazza mentre dagli occhi sgorgavano copiose le lacrime come se volesse attaccarsi saldamente a qualcosa perché una forza nemica invisibile non la trascinasse via nella rovina e gridava no no mai mai ma ora da che era diventata la sposa del conte sembrava che lo stato di saltata ansia fosse cessato e che quella spaventosa paura l'avesse lasciata era logico che il conte pensasse a qualche tremendo segreto da cui l'animo di Aurelia era turbato ma con ragione egli aveva ritenuto indelicato interrogare al riguardo Aurelia fino a che quello stato di ansia sospese la trattenesse ed essa preferisse tacere della cosa ora invece diventato suo marito egli osò delicatamente alludervi e chiedere quale fosse stata allora la causa del suo strano stato d'animo Aurelia assicurò che le avrebbe fatto tanto bene aprire ora tutto il suo cuore all'amato compagno della sua vita non poco dovette quindi stupirsi il conte nell'apprendere che soltanto la scellerata vita della madre aveva riversato sul capo di Aurelia tutta quella miseria distruttrice esiste dunque esclamò Aurelia qualcosa di più orribile nel mondo che dover nutrire verso la propria madre sentimenti di odio e di orrore il padre lo zio del conte non erano dunque stati schiavi di fansi pregiudizi e la baronessa aveva ingannato il conte con premeditata ipocrisia perché il destino fosse in seguito sempre favorevole alla sua pace il conte era costretto ora a pensare così la sciagurata madre era morta proprio nel giorno delle sue nozze e non lo nascose alla moglie ma Aurelia continuò spiegandogli come proprio dopo la morte della madre essa si fosse sentita afferrata da presentimenti oscuri e paurosi e come non potesse cacciare il raccapricciante terrore che la morta stesse per alzarsi dalla sua tomba a raggiungerla a strapparla dalle braccia del suo amato a trascinarla con lei nell'abisso Aurelia si ricordava così raccontò abbastanza vagamente alcuni episodi del tempo della sua infanzia un mattino essa si era appena svegliata dal sonno scoppiò nella casa un terribile tumulto le porte venivano aperte e chiuse con colpi violenti si incrociavano gridando voci sconosciute quando finalmente tutto fu ritornato tranquillo la governante di Aurelia la prese in braccio e la portò in una grande stanza in cui erano raccolti molti uomini al centro steso su una lunga tavola diceva un uomo lo stesso che tante volte aveva giocato con Aurelia l'aveva rimpinzata di dolciumi e che lei aveva chiamato papà essa tese verso di lui le sue braccine e volle baciarlo ma le labbra sempre calde erano ora fredde come il ghiaccio e Aurelia scoppiò senza che lei stessa ne capisse bene la ragione in un gran pianto la governante la portò in una casa estranea dove essa rimase a lungo fino a che non comparve una signora che la portò via con sé in una carrozza ed era costai sua madre che poco tempo dopo partì con Aurelia alla volta della residenza Aurelia poteva avere sedici anni quando comparve in casa della baronessa un uomo che essa ricevette con gioia ed espansione come se si trattasse di un vecchio conoscente egli prese a venire sempre più spesso e presto l'andamento di casa della baronessa andò cambiando in modo notevole ed evidente mentre prima di allora essa aveva abitato in una cameretta sotto il tetto e si era mantenuta con poveri cibi e vestita con miserabili vesti adesso si trasferì in un quartiere elegante in uno dei più bei punti della città si procurò bellissimi vestiti mangiò e bevette con lo straniero che era ormai diventato suo ospite quotidiano cibi e bevande prelibate e prese parte a tutte le manifestazioni della vita mondana che la residenza poteva offrirle soltanto per Aurelia questo mutamento nella condizione di sua madre che evidentemente lo doveva allo straniero non aveva avuto nessun effetto lei restava chiusa nella sua stanza quando la baronessa se ne andava a divertirsi con il suo amico straniero e continuava la sua vita nello stesso modo miserabile di prima lo straniero che malgrado i suoi 40 anni aveva un aspetto molto fresco e giovanile era di figura alto e bello e anche il suo viso poteva dirsi virile nonostante tutto questo egli era talmente antipatico ad Aurelia poiché di frequente il suo comportamento che egli cercava di costringere a un livello di distinzione diventava goffo volgare plebeo le occhiate con le quali egli aveva cominciato ad adocchiare Aurelia la riempivano di sinistro raccapriccio anzi di un ribrezzo di cui non si sapeva tuttavia spiegare la causa fino a quel momento la baronessa aveva trovato che non valeva la pena di dire ad Aurelia anche una sola parola che riguardasse i suoi rapporti con lo straniero adesso le disse il nome aggiungendo che il barone era ricco sfondato e il loro lontano parente celebrò la sua figura i suoi tratti e concluse chiedendo ad Aurelia se le piacesse Aurelia non seppe tacere l'intimo senso di ribrezzo che nutriva nei riguardi dello straniero ma la baronessa la fulminò con un'occhiata che la immerse nel più violento terrore e la trattò da stupida sempliciotta ben presto la baronessa si fece più affettuosa con Aurelia di quanto non lo fosse stata per il passato essa ebbe in regalo abiti eleganti ricchi ornamenti di ogni specie e le fu permesso di prendere parte a pubblici divertimenti lo straniero intanto andava facendo di tutto per accattivarsi il favore di Aurelia in un modo tale che glielo faceva apparire sempre più ripugnante ma la sua delicata sensibilità di fanciulla doveva essere ferita mortalmente il giorno che una malvagità del caso la rese testimonio segreto della rivoltante turpitudine dello straniero e della sua snaturata madre e quando pochi giorni dopo lo straniero in uno stato di semi ebbrezza la prese nelle sue brazza in modo tale che non era più il caso di essere in dubbio sulle sue scellerate mire lei trovando nella disperazione forza maschile le spinse e gettò a terra lo straniero che cadde all'indietro e fuggì a rinchiudersi nella sua stanza allora la baronessa le spiegò con calma freddezza che dal momento che lo straniero manteneva tutto l'andamento di casa e lei non aveva nessuna voglia di ritornare a vivere nell'antica miseria ogni stupida smorfia era inutile e dannosa Aurelia doveva accedere alle voglie dello straniero che aveva altrimenti minazzato di lasciarla invece di prestare attenzione alle suppliche angosciose di Aurelia e alle sue disperate lacrime la vecchia ridendo sconciamente in un turpe scherno cominciò a parlare di una relazione che le avrebbe schiuso tutte le volutà della terra e fu nel suo scherno così sfrenatamente nefanda che Aurelia ne fu terrorizzata si vide perduta e la fuga immediata le sembrò l'unica via di scampo Aurelia era riuscita a procurarsi la chiave di casa e messi insieme i pochi averi che la più impellente necessità richiedeva a mezzanotte quando credeva che sua madre dormisse si insinuò nell'anticamera debolmente illuminata già stava per uscire pian piano quando la porta di casa si spalancò con violenza e con fracasso e qualcuno salì pesantemente su per le scale la baronessa precipitò al suolo appena giunta nell'anticamera ai piedi di Aurelia vestita di una rotta e sudicia veste il petto le brazza scoperti i grigi capelli sciolti e svolazzanti e dietro lei incalzandola da vicino lo straniero che urlava con voce rintronante aspetta aspetta satana maledetto strega d'inferno ti voglio rendere il tuo pranzo di nozze e la ferrò per i capelli trascinandola al centro della stanza e cominciò a malmenarla da picchiarla nel modo più crudele con il grosso bastone che portava con sé la baronessa cacciò uno spaventevole urlo di terrore aurelia prossima a perdere i sensi corse alla finestra aperta a gridare aiuto accadde che in quel preciso momento si trovasse a passare lì sotto una pattuglia di guardia della polizia armata entrarono impetuosamente nella casa prendetelo urlò torcendosi nell'ira e nel dolore la baronessa ai soldati tenetelo ben stretto guardategli le spalle nude e mentre la baronessa pronunciava il nome dell'uomo il sergente comandante della pattuglia esclamò tutto giubilante ah finalmente ti abbiamo preso eh Urian e così dicendo i soldati legarono strettamente lo straniero e lo strascinarono via nonostante tutti i suoi sforzi per liberarsi in mezzo a tutta la confusione di quel momento la baronessa aveva notato molto bene perfettamente capito le intenzioni di Aurelia si limitò a prendere non troppo delicatamente a Aurelia per un braccio a cacciarla nella sua stanza e chiusa a chiave ma non disse parola il mattino seguente la baronessa uscì e non rientrò che a sera inoltrata mentre Aurelia rinchiusa nella sua stanza come in una prigione non vide e non sentì nessuno e dovette passare l'intera giornata senza cibo né bevanda questo stato di cose durò per parecchi giorni di seguito spesso la baronessa la guardava con occhi lucenti di rabbia sembrava che essa lottasse allora con una decisione fino a che una sera trovò rientrando una lettera il cui contenuto sembrò farle piacere creatura stravagante sei tu la colpa di tutto ma adesso le cose vanno bene e spero anzi che non ti colga il tremendo castigo che lo spirito del male aveva sospeso su di te così parlò la baronessa ad Aurelia poi diventò di nuovo affettuosa e Aurelia ora che non aveva più da temere l'uomo che le incuteva tanto ribrezzo non pensò più alla fuga ed ebbe di conseguenza maggiore libertà era passato un po' di tempo quando un giorno mentre Aurelia sedeva per l'appunto solitaria nella sua stanza si alzò dalla strada un forte frastuono la cameriera entrò a dire in gran furia che stavano appunto portando via il figlio del boia che per assassino era stato in quel posto bollato a fuoco e passavano lì sotto diretti alla casa di correzione ma lui era riuscito a sfuggire alle sue guardie e a saltare giù dal carro Aurelia presa da un improvviso oscuro presentimento si accostò barcollando alla finestra non si era sbagliata era lo straniero che circondato da numerose guardie veniva ricaricato sul carro e rinchiuso saldamente ancora una volta era ricondotto all'espiazione delle sue colpe da prossima a venir meno Aurelia ricadde nella sua poltrona quando lo sguardo tremendamente selvaggio di quell'individuo la colpì quando egli con un gesto minaccioso alzò il pugno verso la finestra la baronessa si assentava ancora per molte ore da casa lasciandovi sola Aurelia che conduceva quindi una ben triste vita tra le più amare considerazioni sul suo destino su ciò che di minaccioso inaspettatamente improvvisamente poteva arrivare a colpirla dalla cameriera che del resto era entrata in casa dopo quella notte fatale e a cui qualcuno aveva potuto raccontare in seguito come quel mascalzone assassino fosse venuto in intima relazione con la signora baronessa Aurelia venne a sapere che alla residenza si aveva molta compassione per la povera baronessa che era stata ingannata in modo tanto scellerato da un tale delinquente di bassa specie Aurelia sapeva anche troppo bene quanto diversamente stessero le cose e le sembrava impossibile che almeno i soldati di polizia che avevano quella volta ciuffato l'uomo in casa della baronessa quando Costai l'aveva nominato e aveva dato loro come segno di riconoscimento il marchio di fuoco sulle spalle dell'assassino non fossero fermamente convinti dell'intimità delle relazioni tra il figlio del boia e la baronessa in seguito la stessa cameriera si è espressa in modo a volte abbastanza equivoco su quello che si pensava qua e là e su quello che si pretendeva addirittura di sapere e cioè che il tribunale aveva tenuto severissime inchieste e aveva persino minacciato di arrestare la graziosa signora baronessa poiché sembrava che quello scellerato del figlio del boia avesse raccontato molte cose strane ancora una volta la povera Aurelia dovette riconoscere la snaturata e turpe natura della madre che le aveva fatto ritenere possibile dopo quegli spaventosi avvenimenti di rimanere a vivere alla residenza finalmente sembrò che essa fosse costretta a lasciare il luogo in cui si vedeva perseguitata da ignominiosi e fin troppo ben fondati sospetti e a fuggire in qualche lontana regione durante questo viaggio era capitata al castello del conte dove era accaduto quello che più sopra è stato raccontato Aurelia ora che tutte le sue tristi preoccupazioni erano scomparse avrebbe dovuto sentirsi felice ma quale fu il suo profondo terrore quando nella dolcezza del suo nuovo sentimento parlandone alla madre come di generoso provvidenziale dono del cielo Costei e fiamme dell'inferno negli occhi gridò con voce tremenda tu sei la mia sciagura creatura scellerata e malvagia ma nel mezzo della tua sognata felicità ti colpirà la vendetta se una morte improvvisa e rapida mi porta via è l'infezione tetanica che la tua nascita mi è costata sta il veleno di satana a questo punto Aurelia si fermò si gettò sul petto del conte e lo scongiurò piangendo di permetterle di non ripetere per intero quello che la baronessa aveva detto ancora nella sua delirante pazzia di laconda si sentiva sconvolta e dilaniata nel più profondo del suo animo tutte le volte che ripensava alla spaventosa minazza che superava ogni idea del pauroso e del terribile pronunciata da sua madre preda delle potenze del male il conte il conte consolò sua moglie nel modo migliore che seppe trovare per quanto egli stesso si sentisse attraversato in tutto il suo essere da brividi gelati egli doveva confessare a se stesso anche quando si fu calmato che le enormità della baronessa che tuttavia ormai non viveva più gettavano ancora un'ombra nera nella sua vita che gli era sembrata chiara e luminosa come il sole era passato qualche tempo e Aurelia cominciò a cambiare mentre da una parte il pallore cadaverico del volto e l'occhio spento facevano pensare a malattia l'umore e il carattere di nuovo turbato irrequieto ombroso davano luogo a concludere che qualche altro segreto fosse di nuovo venuto a turbarla essa sfuggiva al suo stesso sposo ed ora si chiudeva a chiave in una camera ora andava alla ricerca dei punti più solitari del parco e quando si lasciava vedere di nuovo i suoi occhi gonfi di lacrime e i tratti stravolti del viso testimoniavano di uno spaventoso tormento che aveva sofferto inutilmente il conte si sforzava nella ricerca di quella che poteva essere la causa dello stato di sua moglie e dallo sconforto totale in cui infine egli era caduto potei soltanto salvarlo la diagnosi di un famosissimo medico che affermò essere tutte le minacciose manifestazioni della grande citabilità della contessa il segno inequivocabile di un prossimo lieto evento lo stesso medico si permise un giorno mentre sedeva a tavola con il conte ogni specie di allusioni al sospettato stato di gravidanza sembrò che la contessa sentisse ogni cosa senza prendervi nessuna parte ma ad un tratto si fece attenta e fu quando il dottore prese a parlare degli stranissimi desideri che a volte le donne in quello stato sentono e ai quali non è possibile né da parte loro né da parte degli altri opporsi senza che il fatto avvenga con pregiudizio della loro salute la contessa salì il dottore con domande e costui non si stancò di chiedere alla sua esperienza pratica i casi più comici e divertenti e di descriverglieli e non solo disse ma si danno anche esempi di desideri abnormi dai quali alcune donne furono portate a compiere le più spaventose terrificanti azioni così ad esempio la moglie di un fabbro ebbe una volta un desiderio così grande della carne del marito che non ebbe pace fino a tanto che tornato un giorno costui a casa mezzo ubriaco essa gli piombo addosso inopinatamente con un coltellaccio e lo fece a pezzi in modo tanto feroce che egli in poche ore rese l'anima a Dio il medico aveva appena finito di dire queste parole che la contessa svenne scivolando a terra dalla sua sedia e soltanto con grande fatica potesse salvata dalla crisi di nervi che in seguito la colse e il dottore dovette riconoscere di non aver agito con prudenza nel rievocare in presenza di una donna dal sistema nervoso così debole quel fatto pauroso eppure sembrò che la crisi avesse avuto sullo stato della contessa un benefico effetto perché diventò più tranquilla per quanto poi pochissimo tempo dopo un contegno di una singolarissima rigidità una fosca fiamma negli occhi e l'accresciuto pallore mortale del viso gettarono il conte in nuovi tormentosi dubbi circa lo stato di salute di sua moglie il punto più misterioso e inspiegabile di questo stato era tuttavia il fatto che lei prendeva pochissimo cibo come se tutto le provocasse il disgusto particolarissimamente la carne tanto che ogni volta era costretta ad alzarsi da tavola con le più vivaci manifestazioni di ribrezzo l'arte medica non poteva avere nessun successo poiché le suppliche più insistenti più amorose del conte niente insomma al mondo aveva il potere di far prendere alla contessa una sola goccia di medicina essendo dunque passate settimane e mesi senza che la contessa avesse assaggiato un boccone di cibo rimanendo insondabile il mistero come potesse continuare a vivere mancandole totalmente il nutrimento il medico pensò che dovevano essere in gioco forze esulanti dal campo della pura scienza umana con un pretesto qualunque egli lasciò il castello ma il conte capì molto bene che al cerebellimo dottore lo stato di sua moglie era sembrato troppo enigmatico perché egli volesse attendere più a lungo ed essere testimonio di una inspiegabile malattia senza peraltro essere capace di portarvi soccorso è facile immaginare quale fosse lo stato d'animo del conte ma non bastava ancora precisamente in quel periodo di tempo un vecchio servitore prese l'occasione di aver trovato solo il conte per rivelargli come ogni notte la contessa lasciasse il castello e non vi tornasse che sul fare dell'alba il conte nell'apprendere la notizia si sentì invadere le membra da un freddo glaciale si ricordò allora e per la prima volta lo notò che da qualche tempo verso la mezzanotte gli prendeva regolarmente un sonno che non aveva niente di naturale e ora lo attribuì a qualche narcotico che la contessa gli somministrava con lo scopo di abbandonare non vista e non sentita la camera che essa contrariamente al costume aristocratico condivideva con il marito i più neri presentimenti caddero nella sua anima pensò alla diabolica madre gli istinti della quale si stavano forse ora risvegliando nella figlia pensò a qualche turpe relazione pensò allo scellerato figlio del boia la prossima notte gli avrebbe svelato il mistero che poteva essere la sola causa dell'inspiegabile stato di sua moglie la contessa era solita preparare con le sue mani ogni sera il tè che poi versava il conte e allontanarsi quella sera egli non ne bevette neppure una goccia e leggendo secondo la sua abitudine a letto non sentì vicino alla mezzanotte quella tremenda sonnolenza prenderlo come il solito e tuttavia si buttò tra i cuscini e fece finta di essersi profondamente addormentato piano piano allora la contessa lasciò il suo letto si avvicinò a quello del conte gli fece brillare in viso la luce di una candela e poi sgusciò fuori dalla stanza il conte sussultò si alzò si avvolse in un mantello e scivolò dietro i passi di sua moglie era una notte di luna piena una notte chiara cosicché gli fu possibile vedere davanti a sé netta nei contorni per quanto avesse molti passi di vantaggio si di lui la figura di Aurelia avvolta in una bianca camicia da notte la contessa direse il suo cammino attraverso il parco al cimitero la giunta sparì vicino al muro rapidamente il conte le corse dietro fino alla cancellata del campo santo che trovò aperta ed ecco che nella chiara luce diffusa dalla luna egli vide davanti a sé vicinissimo un cerchio di orribili figure vecchie donne seminude si erano accasciate a terra e nel centro del cerchio giaceva il cadavere di un uomo che esse con ingordigia di lupe divoravano Aurelia era tra loro in selvaggio terrore il conte fuggì via a precipizio e corse incosciente istigato aizzato inseguito dal terrore mortale dall'infernale spavento per i viali del parco ritrovandosi al primo chiarore del mattino fradicio di sudore davanti alla porta del castello involontariamente senza essere in grado di concepire un pensiero che avesse il minimo significato salì a salti la scala si precipitò attraverso varie stanze nella sua camera da letto la contessa giaceva là addormentata o così sembrava in un dolce sonno delicato e il conte volle con ogni sforzo convincersi che tutto era stato solo una raccapricciante visione di sogno o forse invece dal momento che il mantello bagnato dalla rugiada dell'alba era lì a testimoniare della realtà del suo tremendo vagabondaggio notturno ed egli troppo bene aveva di quello coscienza una visione una visione ingannevole aveva terrorizzato a morte attraverso i sensi la sua anima senza attendere il risveglio della contessa egli lasciò di nuovo la stanza si vestì e disperato salì a cavallo la cavalcata nella bellezza del mattino tra cespugli odoranti dai quali levavano a lui il loro saluto lieto gli uccelli appena svegli allontanò le tremende visioni della notte confortato e rasserenato egli rientrò al castello ma quando tutti e due la contessa e il conte si sedettero soli a tavola e costei al venire in tavola del piatto di carne fece l'atto di allontanarsi con l'espressione del più insormontabile disgusto allora la verità tremenda e atroce di tutto quello che nella notte aveva visto si fece strada nell'animo del conte si alzò in un balzo di rasselvaggia e gridò con voce terribile maledetto parto dell'inferno so bene cosa significa il tuo schifo per il cibo degli uomini dalle tombe tu strappi il tuo nutrimento femmina diabolica ma mentre il conte urlava queste feroci parole la contessa con un alto ululato gli si slanciò addosso e con la furia della iena lo morsicò al petto il conte scacciò da sé buttando la terra alla folle che tra gli spasmi e le convulsioni più ripugnanti spirò il conte morì pazzo l'è tutto Grazie a tutti.